Ragazzi sono emozionato, sto registrando in un cesso, sto registrando in un cesso Però ragazzi posso registrare soltanto qua, ma sono emozionato Con quasi le lacrime agli occhi per come ha giocato oggi Fabio Fognini Per come ha giocato oggi Fabio Fognini Per una stesa, una stesa, una stesa, una stesa al re della terra rossa Una stesa totale, totale, totale al re della terra rossa Una stesa totale sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano del gioco L'abbiamo steso, l'abbiamo steso Fognini-Lajovic è la finale più impronosticabile, più incredibile La prima finale in un Masters 1000 per Fabio Fognini Perché non ci siamo ancora, per portare a casa il primo Masters 1000 Fabio c'è, Fabio Fognini c'è, è uno spettacolo È uno spettacolo Fabio, a dimostrazione che quando è in testa Quando Fabio Fognini gioca così è uno spettacolo È uno spettacolo ed è il numero uno È il numero uno, non secondo a nessuno Non secondo a nessuno Non secondo a nessuno Fabio Fognini quando gioca così è il numero uno Due set da spettacolo Siamo andati a un passo, a un passo Tre match point andullati ma siamo andati a un passo Siamo andati a un passo dal chiudere Dal chiudere 6-4, 6-0 e dal dare un 6-0 a Nadal Da quanto i ragazzi non avrebbero dato un 6-0 a Nadal Poi il gruppo di coda, piccolo passaggio a vuoto di Fognini Ma il fatto sta che la chiudiamo 6-4, 6-2, Monte Carlo è in deliro La pennetta in tribuna, non so quante rughe abbia preso in queste partite Però penso che oggi sia veramente l'apice della carriera di Fabio Fognini L'apice della carriera di Fabio Fognini E sono emozionato Andiamoci a giocare in questa finale Perché è una possibilità unica tra l'altro in finale contro Lajovic Per andare a prendersi questo Masters 1000 Praticamente in casa Domani il pubblico sarà tutto, tutto, tutto a suo favore Abbiamo battuto il Principe di Monte Carlo dopo Alberto Abbiamo battuto il Re della Terra Rossa Che non era apparsa infatti brillantissima E oggi Fabio Fognini gli ha dato una stesa E quindi forza Fabio, forza Fabio E andiamoci a prendere, andiamoci a prendere il titolo Andiamoci a prendere il titolo Andiamoci a prendere il titolo Vamos Fabio, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ma vamos, vamos Fabio Forza gli italiani, forza Fabio Fognini Forza Fabio Fognini perché questo Fogna 2 Ragazzi, mi fa impazzire Mi fa impazzire